Giovanni Celsi, com'è andata questa decima edizione del premio Morrione? Innanzitutto è andata che siamo tutti stati in presenza, cioè quindi il primo evento che facciamo a conclusione di un'edizione dopo la chiusura della pandemia, dovuta alla pandemia. Quindi è andata bene da questo punto di vista. È andato bene anche perché le inchieste che sono state realizzate sono tutte inchieste molto interessanti, come al solito, ma che uniscono gli aspetti, che sono anche i temi che abbiamo trattato in questa edizione, i temi della transizione a una nuova epoca, di cui i segnali sono molto forti. E queste inchieste sono riuscite a individuare alcuni dei temi internazionali con manifestazioni locali che partono anche dall'Italia, che riguardano un po' tutti e riguardano anche le nostre vite personali. Il bilancio è sicuramente positivo, chiude un decennio, vuol dire che sono dieci anni che ci ha lasciato Roberto Morrione, vuol dire che sono dieci anni che abbiamo sviluppato un premio che ha una sua originalità, cioè quella di unire competenze di professionisti esperti che fanno da tutor a giovani giornalisti che si cimentano in una delle espressioni del giornalismo più impegnative, il giornalismo d'inchiesta. Il bilancio è sicuramente positivo, non solo perché è un bilancio quantitativamente positivo, più di mille partecipanti ai bandi, credo 600 progetti di inchiesta presentati, oltre quasi 40 inchieste realizzate durante questo decennio, di cui la maggior parte anticipava temi che non erano ancora nell'agenda dei media principali, quindi una capacità di individuare problemi, situazioni che sarebbero diventati poi veramente più, avrebbero avuto l'attenzione di media più grandi e diffusi. È un'edizione che ha potuto, questa come le precedenti, che ha potuto contare sull'aiuto di tanti, a cominciare dalla RAI. È un premio che nasce in seno alla RAI, grazie al contributo della RAI, nasce in seno a un altro premio importante, che era il premio Ilaria Alpi, di cui Roberto era stato uno dei principali animatori e fondatori. E quindi, come dire, c'è anche una continuità in questo senso. Poi abbiamo il contributo di tanti, non solo di tante, a direzione di RAI, da RAI News, Radio RAI, le TEC. Adesso dimenticherò sicuramente qualcuno, ma veramente tutti quelli che hanno conosciuto Roberto dentro la RAI e tutti quelli che ne hanno sentito parlare dopo, si sono impegnati a mantenere vivo il ricordo attraverso questo premio. Dieci anni di primi morione sono quindi un percorso importante, che sta continuando appunto con la collaborazione e il contributo di tantissimi soggetti. E dove si sta andando per il futuro? Già da alcuni anni noi siamo partiti con l'aggiungere alla sezione tradizionale del video, quella sperimentale, che ci ha consentito di fare alcune delle inchieste con mezzi e linguaggi mai tentati primi. Ti faccio un esempio per tutti. Credo che sia stata la prima inchiesta svolta su Instagram, quella realizzata un paio di edizioni fa. Adesso, infatti, ancora una volta amplieremo le sezioni del premio, dedicandone una specifica al podcast, che è diventata uno dei mezzi principali per raccontare il mondo nelle diverse forme e linguaggi giornalistici e non solo. Questo anche perché per uscire dai percorsi tradizionali, che restano anche quelli principali per noi, come la inchiesta video che va in televisione e che possono raggiungere pubblici molto vasti e anche molto variegati, per indirizzarsi a linguaggi e mezzi di fruizione più mirati a pubblici definiti in maniera diversa, da quella più giovanile a quella più interessata a specifiche tematiche e così via. Quindi c'è un progressivo, come dire, evolversi del premio a seconda degli stimoli che ci vengono dall'esterno. Grazie mille! Grazie a tutti.